Nel centenario del liceo Crespi di Bustarsizio questa iniziativa di erogare lezioni di greco per un'utenza che non è solo ed esclusivamente quella scolastica ma è quella esterna anche alla città è un modo per dire grazie alla città per la fidelizzazione che in questi cento anni ha dato questo istituto. Il liceo classico è ancora molto legato alla tradizione ma non è più tradizionalista anzi si è molto rinnovato è molto innovativo riesce ad avere anche bandi nazionali a portarsi a casa anche risorse importanti per la formazione nazionale sul piano digitale della scuola quindi è una scuola che veramente sta andando molto avanti e porta bene i suoi cent'anni diciamo così. Interessante anche che si valorizzino le competenze dei nostri ragazzi che sono i docenti in peer education in qualche modo degli utenti esterni alla scuola che vengono a fare queste lezioni per apprendere una lingua che non è per niente morta perché parla ancora oggi attraverso tutte le discipline e il nostro modo stesso di esprimerci.